La signora mi viste tutta sciannaggiata e mi disse Chi cerca suo marito? Mori a me e si aprirà la notte a via biscottare! La nostra famiglia sa sempre risorgere come l'araba fenice. Mia nonna, mia nonna si chiamava Giulietta. Correte, correte, scappate! Arrivano i durchi, arrivano i durchi! Dulcio Ragnello che si è fatta a Beffe dell'Inquisizione la trovate alle carceri dei Palazzo Steri per le vie dei tesori edizione 2021 e trovate anche Delia Vittaker che la trovate a Villa Malfitano poi trovate la zia Mimmi a Villa Pottino e poi trovate la Margheritina di Salvo Licata al Palazzo Costantino, tra le macerie che racconta i bombardamenti al 9 maggio 1943. Bellissima esperienza, è come una canzone io chiudo un cassetto e ne apro un altro e grazie a via dei tesori anche io sto scoprendo dei posti della mia Palermo che non conoscevo ancora. Due aneddoti veloci la zia Mimmi a Villa Pottino è stata avvicinata da una signora, da una spettatrice che ha detto scusi se l'abbiamo disturbata la figlia gli ha detto mamma guarda che è finta, è un'attrice e la signora chi bene a dire che è finta è stato per me un grande complimento e poi un signore che vedendo Margheritina di Salvo Licata qui a Palazzo Costantino ha detto lei ha fatto piangere mia moglie e io ho detto che bello poi ho detto ops mi dispiace insomma si era commossa quindi è una bellissima esperienza ma va a fare piangere uno scanto a fare morire con la mia beh beh perché ci succede dopo beh non farà così perché sei morto ma magari io muore a prestatia sogno a volte beh non mi farei scantare beh a un'esì ma è il mio amore a prestatia beh grazie